Ciao a tutti da Casual Nerd e bentornati alla seconda giornata dei quarti di finale quest'oggi la partita che andiamo a disputare che è stata selezionata è Russia-Croazia alla guida della Croazia ci sono io, invece alla guida della Russia abbiamo Andrea Bella Andrea, ciao! Eccoci qua, quindi sei carico e motivato per utilizzare la Russia te? Carico e motivato e sarà dura ma voglio far passare la Russia Croazia la scuola fortissima, vediamo Ok, andiamo Pronti partenza via, andiamo a vedere come e qual è il pronostico di Russia-Croazia Pronto Andrea? Prontissimo! Ha fatto un tiro, un gol, poi dopo sulla prima azione del Veld, il Veld ha preso il palo quindi è stato tutto un po' una partita strana Il portiere alla fine del Giappone sembrava Benjamin Price E infatti ha fatto un sacco di meme su questa partita E' il mio primo gol di testa da quando gioco a FIFA penso, sapi? Hai visto i pochi, dico così Non subito i pochi anch'io Domandona invece subito Che squadra ti fai in questo mondiale? Visto che... In questo mondiale mi piace molto la Francia e il Belgio Sono due squadre fantastiche, anche la Croazia in parte, però più Francia e Belgio diciamo Non mi piace per niente il Brasile Quindi tra le due, se fosse Francia e Belgio? Che non può essere una finale ovviamente, però che scenderesti? È durissimo, non saprei proprio Parte di pene, è più favorita la Francia, però anche il Belgio può dire la sua La Francia è molto più solida come squadra Il Belgio è forte sull'individualità, solo che è chiaro che se quelli non comunicano bene Come appunto contro il Giappone Succede qualcosa che succede, che rischia di uscire fuori come pochi E invece secondo te qual è il giocatore più forte di questo mondiale? Inclusi anche quelli che sono usciti, ovviamente Beh, questa è una domanda facile, Cristiano Ronaldo Ok, e visto che la rendo un pochino più divertente Se non ci fosse Cristiano Ronaldo? Eh, se non ci fosse lui, beh, anche qui un'altra risposta spontata che è Neymar Centrocampisti invece che ti stupiscono? Beh, Modric, assolutamente Ti voglio chiedere, faccio un'altra domanda molto interessante L'altro pronostico per questa giornata Qual è secondo te? Svezia-Inghilterra, si intende? Svezia-Inghilterra direi, Inghilterra anche se la Svezia potrebbe essere una sorpresa Ma alla fine penso che l'Inghilterra riesca a vincere Di poco, sarà una partita durissima, è facilissimo che si vada a supplementare E faccio anche un 2-0 Ok, quindi Diciamo che il pronostico che stai lanciando per Inghilterra-Svezia è 2-0 per l'Inghilterra Ai supplementari o anche prima dei supplementari, non i rigori Quindi segnatevi questo pronostico Nel frattempo invece la partita Russia-Croazia è 0-3 per la Croazia La partita può comunque subire un ribaltone perché il mio stato fisico è già calato Invece il stato fisico di Andrea sento che sta aumentando E sono certo che cambierà da 0-3 e passerà a qualche gol in più per la Russia Detto questo, direi che si può proseguire con il secondo tempo Andiamo Nella realtà invece, in seguità, questa partita com'è che finisce? Non proprio, non così, ma quasi Dici un 3-0 No, magari 3-0 No, una vittoria secca comunque Che squadra tipi della Serie A invece? Parlando di Serie A Una squadra Pericolosa Nel senso che non sappiamo ancora di chi è Prano di Europa Ah, tu intendi che Il play finanziario Ah, è una cosa strana, ma si capisce Perché se sono squadra che spendono un sacco di soldi E non succede mai niente E visto che stiamo parlando di Serie A Ti faccio un'altra domanda molto interessante Parliamo di calciomercato un attimo Qual è, secondo te, al momento il miglior acquisto del calciomercato? Beh, il miglior acquisto del calciomercato spero che non sia quello di cui si parla In questi giorni che Ronaldo ha la Juve Eh, quello potrebbe essere Un acquisto Esorbitante sarebbe Eh sì, incredibile Escrivendo Ronaldo la Juve Ma la Roma ha fatto, secondo me, una grande campagna acquisti finora Cosa ne pensi di Pastore? Secondo te può essere Ottimo, un ottimo giocatore Pastore, ma non solo lui Anche Kluivert può essere una gran rivelazione Eh sì È un po' un rischio, però è giovane Arriva da un campionato che è completamente diverso da quella della Serie A Però non si sa mai Non è meno E visto che stiamo parlando di calciomercato Ti chiedo, qual è il giocatore che vorresti nella tua squadra? Essendo un po' razionale, magari Proprio evitando di dire, magari, quei numi che si sa che non si possono acquistare Un buon attaccante Che manca almeno C'è qualcuno in mente? Un buon attaccante Ma comprerai Chiesa Eh, finita Che squadra sorprenderà invece il campionato italiano quest'anno? Beh, per la vittoria nessuno Sorprese grandi nessuno Solite squadre, alla fine Ma che è arrivato? Un band di testa Cosa che non prenderò mai più la russa? Come no? Guarda, guarda Ma che bel risultato Che peccato Mannaggia, guarda, l'ho segnato troppo tazzo Manca pochissimo Alla fine della partita potrebbe essere questo il risultato finale Eh sì, è finita Bene Quindi il risultato al momento pronosticato per Russia-Croazia è 3-4 Giusto? È un stato che comunque sia volendo ci potrebbe anche stare tutto sommato Se dovessimo guardare la realtà del gioco Per le due squadre sì Segnano tanto a queste due squadre Quindi potrebbe capitare Chissà se capiterà in questo caso questa sera questo risultato Ricordiamo anche l'altra partita che ha pronosticato Andrea che è Inghilterra-Svezia 2-0 per l'Inghilterra Con questo chiudiamo le giornate dei quarti di finale Grazie Andrea per averci aiutato a poter ottenere questo pronostico Se vuoi fare un saluto Un saluto al mio piccolo e alla mia bambolina Grande Andrea Ciao Da Casonerd questo è tutto Alla prossima